Buongiorno a tutti. Qualcuno che ce l'ha fatta, possiamo dire, che avete già avuto un ottimo risultato, insomma, arrivare alle Olimpiadi è già un risultato. Certo, adesso la strada è ancora oltre, è salita, questo è da dire, no? Quindi dovete, siete lì adesso inizio a un ulteriore e partare. Però è vero una cosa che lo sport avviva tutti a superare, a conoscere i propri limiti, e chiunque di non ne ha, imparare a conviverci, imparare a superarli, per riuscire a battere i propri degli avversari, perché è importante partecipare, però credo che nel cuore di tutti voi ci sia la medaglia. E io ve l'auguro con il cuore. No, no, adesso andiamo, poi dopo... Ma viene lei qua, facciamo prima, non guarda le lì, viene lei qua. Ma come fai a fare? Perché guarda un attimo, grazie. Grazie a me. Guardate a noi. Grazie. Grazie.